Dopo la pausa di Pasqua il DAX prosegue verso le resistenze a 11.000, a 10.400 possiamo dire che ormai lo abbiamo lasciato alle spalle, la chiusura intorno a 10.700 superata la volatility stop line, per 11.000, attorno a 11.000 passano le resistenze date dal 50% di ritracciamento dove sono ora, qui con l'indicatore, 50% di ritracciamento del ribasso precedente. E' la media mobile a 50 giorni che scende, quindi in quest'area io mi aspetto resistenza all'attuale movimento, poi vedremo anche un po' meglio sull'intraday qual è la struttura, la robustezza di questo movimento. Il Fuzzimib, ecco vedete salta subito all'occhio la differenza, qui siamo ancora non solo sotto la volatility stop line ma siamo sotto l'obiettivo del 38% di ritracciamento. Cioè mentre il DAX si sta portando qui in quest'area, noi ancora dobbiamo superare il 38%. E francamente il Fuzzimib è il più debole, oggi addirittura chiude negativo con tutti gli indici delle borse che sono tutti quanti positivi, addirittura quello americano in questo momento sopra il 2% abbondantemente, stiamo quasi per toccare il 3%, l'SMP si sta portando esattamente sugli stessi obiettivi media 50 che scende, però qui addirittura sta per raggiungere il 61.8% di ritracciamento che è questa linea dove sono posizionato adesso con il cursore. l'America ha il vantaggio dei 4 e passa trilioni di dollari di piani che sono stati varati, quindi c'è una spinta in più a questa piccola fase di euforia che per ora va avanti, nonostante insomma la situazione al contorno non sia proprio l'ideale, però così è il mercato in questo momento almeno negli Stati Uniti è euforico, a meno del, ecco se proprio devo andare a cercare dei dettagli, adesso sono sullo SPY che è l'ETF, togliamo un attimo le medie, questo è l'ETF e sull'SMP 500 qui l'unica stonatura e sono gli indicatori di momentum e di breath dei volumi che sono in calo, quindi man mano che andiamo verso su si perde un po' interesse a prendere le posizioni, quindi però finché dura, io qui finché vedo il rispetto delle trend line, il rispetto della distanza dalla volatility stop line, quindi per il momento il trend è continuo e non posso dire che questi sono dei livelli di short, l'avevo detto già l'altra volta, il fatto che già qua ci fossero state delle divergenze anche sugli indicatori non vuol dire nulla perché, adesso ne andiamo a prendere, questo l'avevamo visto sul DMI, ecco qui c'erano delle divergenze che noi avevamo fatto vedere e vi dissi che poteva farne anche una terza perché sono dei segnali premonitori, non sono dei segnali di trigger, il trigger scatta soltanto alla violazione dei pattern di prezzo, quindi abbiamo dei sintomi di debolezza che ci devono semplicemente dire occhio, stiamo in guardia perché appunto dal punto di vista tecnico non tutti i parametri sono a posto, comunque finché questo va, questo è il più forte, l'indice è sempre in questo momento il più forte, sta facendo un più 3% mentre oggi il DAX, il cash ha finito a più 1,25, il FTSE MIB addirittura negativo come vi dicevo prima, andiamo a dare un attimo un'occhiata alle nostre liste, alle nostre watch list, altri elementi di preoccupazione sono sempre riguardo all'Italia ed è anche uno dei motivi per cui il FTSE MIB è chiuso negativo e la debolezza del BTP che faccio vedere con lo spread che oggi si è allargato e tornato sopra 200 punti, questo sicuramente non aiuta il settore bancario, infatti vediamo unicredit meno 4,5% con volumi in aumento, questo non mi piace, ecco vedete questo è il volumi in aumento, rottura della volatility stop line in un momento in cui gli indici vanno verso su non è un bel segnale, quindi tutti i titoli guida dei bancari sono oggi pesanti, Mediobanca altro meno 4, idem rottura della volatility stop line, volumi in aumento, abbiamo intesa San Paolo meno 2,6, intesa addirittura era già la volatility stop line, non era riuscito a superare a rialzo la linea rossa e quindi l'attuale l'attuale contesto è negativo per i bancari italiani. Eni vi ricordate che avevamo visto questa configurazione di potenziale top fatta proprio in area a 9,7 che era un gap importante aperto il 9 marzo e vi avevo tracciato queste due linee dicendo che da qua dovevamo aspettarci un movimento, questi sono movimenti che generalmente si gestiscono bene con le opzioni, siamo usciti per ora verso il basso, non abbiamo ancora rotto definitivamente i supporti a 9, però oggi l'uscita verso il basso è stata importante e vedete ancora una volta accompagnata da volumi in aumento, quindi attenzione domani la conferma se ci fosse rottura di 9, proseguiamo verso il basso con il primo obiettivo 8,7. Vediamo un po' di storie positive, ce ne sono, ce ne sono sempre, sono anche dei titoli che avevamo segnalato anche nell'analisi settimanale, continua il rialzo di Nexi, oggi più 5,9, impostazione positiva, ecco vedete questo è un titolo che oggi nuovi massimi accompagnati da massimi di periodo ovviamente, accompagnati da volumi sostenuti, quantomeno non li vediamo in calo. Diasorin è andata molto bene, l'avevamo segnalato anche nell'analisi settimanale, quasi più 5%, ecco queste sono le cose che noi vogliamo vedere, vogliamo vedere le uscite verso l'alto con accompagnati da incremento d'attività, ma Diasorin lo sta facendo già da un po', ecco, quindi su scala intraday riusciamo a vedere, c'è più volatilità, Diasorin è più volatile, certo rispetto ad altri titoli, però comunque il trend è buono, l'avevamo visto nell'analisi settimanale dove abbiamo fatto l'analisi su scala daily. Bene anche Unipol, ci sono alcuni assicurati, bene nessuno altro perché sta tenendo i supporti, non al confronto di altri, quindi oggi fa più 2, anche generali per il momento resta sopra i supporti, riesce ad avere delle fasi di espansione verso l'alto e poi arreggere, vediamo se il movimento riuscirà a continuare. Fineco Bank, chiuderei qui, ecco un'eccezione sui bancari, Fineco che è chiaramente è un bancario particolare rispetto ai classici, ai grandi gruppi, ha una configurazione ancora bullish, questo è un pattern di continuazione, un triangolo flat in alto, quindi le probabilità maggiori per una figura del genere sono di una rottura verso l'alto, parliamo sempre di probabilità perché la certezza qui non ce l'è a nessuno, però questo è una figura di continuazione, non è una figura di reversal in genere, quindi bene Fineco Bank. Bene, direi tutto per oggi, ci aggiorniamo a domani, se avete qualche storia particolare da segnalare in titoli interessanti, situazioni particolari, lasciatemelo nei commenti che magari ci diamo un'occhiata al prossimo video. Grazie per l'attenzione, a domani.